Musica Ora andiamo a Belvedere Marittimo dove questa mattina gli studenti dei licei cittadini hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con la festa delle matricole. I dettagli nel servizio di Giuseppe Miraglia. Socializzazione di informazione per i licei di Belvedere. Sono stati questi gli ingredienti principali della festa delle matricole che stamattina raccolti i liceali di Belvedere Marittimo nei locali di una nota discoteca. Spazio alla creatività e borse di studio per i più meritevoli all'insegna dell'offerta formativa e dell'attenzione verso le problematiche degli studenti, come ci ha spiegato il dirigente scolastico Maria Grazia Gianciulli. Dobbiamo sintonizzarci con questi giovani, entrare nella loro dimensione, avvicinare le istituzioni al mondo dell'adolescenza. Il mondo dell'adolescenza è ricco ma è a rischio perché noi viviamo in una società che presenta mille problemi, mille pericoli e quindi dobbiamo essere di supporto, vicini, pronti all'ascolto, a recepire i messaggi di disagio e quindi aiutarli nei momenti di difficoltà in questa delicata fase di passaggio adolescenziale. La scuola si apre al territorio, si apre al mondo giovanile e chiede la collaborazione delle istituzioni in questa bellissima avventura che è l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Oggi è una giornata di orientamento, una giornata di accoglienza, una festa dedicata alle matricole, ai ragazzi che vorranno iscriversi il prossimo anno al nostro liceo scientifico classico delle scienze umane e linguistico e che avranno a loro volta l'occasione di vivere questa bella esperienza della festa delle matricole. Alla festa delle matricole rappresenta anche il presidente del consiglio provinciale di Cosenza, Orlandino Greco, che ha sottolineato l'importanza del ruolo delle istituzioni per interpretare al meglio le esigenze della collettività. Dello stesso avviso Mario D'Aprile, assessore alla pubblica istruzione del comune di Belvedere. Quando si tratta di solidarietà, di socializzare, l'amministrazione comunale è sempre vicino a questi tipi di problematiche.